Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in iscrizione trovate il link per acquistare le mie magliette Mi raccomando appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi E adesso vi lascio il video, buona visione Hola a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla E già so cosa state per dire, ma dove è finita la webcam? Ragazzi purtroppo questo video sarà senza webcam Perché ho dovuto fare un cambiamento nella stanza e ancora non voglio spoilerarvelo Infatti per ora sono senza sfondo Comunque, detto questo, vi invito come se mi asce un pollicione in su per questo episodio Perché oggi andremo a fare una cosa veramente carina Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti e se non vi possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui Allora cosa andremo a fare oggi in questo episodio? Sicuramente già l'avete capito sia dalla miniatura che anche dal titolo Ovvero andremo a creare una piccola casettina come base in questo punto Visto che siamo senza casetta Diciamo che ci starebbe crearne una qui E infatti andremo a fare proprio in questo punto Quindi dobbiamo subito iniziare a tappare questo buo che sinceramente non ci interessa Inseriamo subito già a creare le fondamenta per questa nuova casettina Comunque sarà leggermente piccola Ma all'interno avrà tutto l'occorrente per sopravvivere Quindi iniziamo subito Andiamo a piazzare le nostre shulker box che possono tornarci appunto utili Quindi piazziamo queste tre shulker Intanto grazie mille per avermi scritto nei commenti Che avevo dei razzetti all'interno della shulker box gialla Ed è vero, eccoli qua, cioè sono veramente stupido Comunque prendiamo della dirt Quando abbiamo 15 ci servirebbe ancora più dirt E non ne abbiamo Quindi dobbiamo raccoglierla Se sentite la mia voce che è leggermente differente È perché ho leggermente mal di gola E purtroppo ragazzi quando cambio il tempo Io sempre mi ammalo Non so per quale motivo ma va bene così Allora andiamo leggermente lontano E iniziamo subito a raccogliere della dirt Li possiamo prenderla volendo da qui Così possiamo sfruttare la dirt che andiamo a levare qua Per spianare leggermente Tipo questa montagnetta qui La possiamo spianare un pochettino E raga in un batter d'occhio Abbiamo già devastato tutto Comunque tranquilli Già dal prossimo episodio ci sarà di nuovo La webcam Non vi preoccupate Purtroppo come ho detto nella intro Non sono riuscito a rimettere lo sfondo con la bandiera Che sono utilizzato ultimamente Per coprire diciamo tutto il resto Perché ancora non voglio spoilerarvi quello che sto facendo E quindi sì oggi purtroppo Niente webcam O comunque niente videocamera Perché io non uso una webcam Ma vabbè questi sono dettagli Ok vediamo altra volta uno di terra E direi che può anche abbastare Cioè questa pala è spettacolare Cioè incredibile Comunque andremo a fare una casettina Molto compatta Molto carina esteticamente Con all'interno Il letto Qualche fornace Una crafting Insomma Tutto quello per sopravvivere E l'andremo a fare con il legno Che naturalmente andiamo a ritrovare qua in giro Quindi col dark oak E se non sbaglio Dovremmo avere anche il vicino delle betulle Quindi delle berce Ora io mi sono perso Perfetto In più appena farà notte Voglio sfruttarla Per andare a caccia di creeper Così abbiamo Altra gunpowder Per fare Altri razzetti Per andare a ricerca Degli altri biomi Comunque C'è stato un piccolo fraintendimento Nello scorso episodio Alcuni di voi sono fatti ingannare Un pochino dal titolo Dove ho scritto Che ho scoperto Quale bioma mi mancava Ebbene sì Io ho scoperto Quale bioma mi manca Ma non l'ho trovato Infatti c'è una piccola differenza Fra scoprire e trovare Non sovo sinceramente Come scrivere il titolo Perché comunque Nel video Insieme Con qualche ragionamento Abbiamo appunto scoperto Quale bioma ci manca Ma ancora Non siamo riusciti A trovarlo Allora Incominciamo subito A tappare tutto quanto Quindi tappiamo tutto questo qua Visto che non ci serve Perfetto Fatto tutto Abbiamo spianato Per bene questa zona Direi che possiamo subito Metterci al lavoro Per iniziare a costruire Questa casetta Allora Prima di tutto Ci serve Della cobblestone Che Non ci siamo portati Ma sono un genio Ah no Eccola qui Allora Ne abbiamo veramente pochissima Ragazzi Quindi sì Mi tocca andare un attimo In miniera E prendere Della cobblestone Direi che questo può essere Un buon punto Per accogliere La cobblestone Neanche per creare Una piccola miniera Artificiale Quindi iniziamo un attimo A scavare E ragazzi Alla fine ci serve Sì e no Un paio di stack Di cobblestone Quindi Non ce ne serve Moltissima Piazziamo solamente Delle torce Perché se no I mob qua dentro Fanno i festini E adesso Direi che possiamo Iniziamo subito A costruire Questa bellissima Casettina Però Prima di tutto Abbattiamo un albero Andiamo ad abbattere Quest'albero qui O quantomeno Prendiamo abbastanza legna Perché come detto Andiamo a sfruttare La legna Che abbiamo qua vicino Quindi Andiamo a utilizzare La dark oak wood E se non sbaglio Anche la birch wood Così almeno Facciamo un piccolo contrasto Fra scuro E chiaro Perfetto Già qui c'è Una bellissima betulla In realtà non è bellissima Perché sinceramente A me il legno di betulla Proprio così Non mi piace più di tanto Essere sincero Quindi Eh Ci sta a levarlo dal mondo Direi Ok perfetto Ne ho preso un bel poco E a breve farà notte Mi sa che Mi andrò di nuovo A intrufolare All'interno della caverna Con il letto Per far passare Velocemente questa notte Così subito Andremo a costruire Poi la nostra Bellissima Casetta Anzi Proviamo una cosa Veramente Velocissima Tac Tac da suo destro E andiamo subito Così a dormire Easy Easy raga Già la sotto Guardate c'era già uno scheletro Ok spacchiamo il letto Perché tanto non ci serve E lo possiamo rimettere Qua dentro E adesso ragazzi Iniziamo subito A costruire Questa casettina Allora Iniziamo con la base Dobbiamo fare tipo una base Di 11 per Vieni qua Vieni qua Vieni Come ho usato interrompermi Ok Stavo dicendo Dobbiamo iniziare a fare una base Di 11 per circa 5 o 6 Quindi mettiamo subito Tipo più o meno qua Uno di questo Poi facciamo Uno, due, tre Un altro di questo Poi facciamo Uno, due Tre, quattro Cinque, sei Sette, otto Nove E un altro di questo Perfetto A questo punto Dobbiamo riempire tutto quanto Adesso incominciamo Ad alzare I pilastri La nostra casetta Quindi facciamo Uno, due Tre, quattro E cinque Lo facciamo anche da quest'altra parte Aia Uno, due Tre, quattro E cinque Uno, due Tre, quattro E cinque Perfetto E anche quest'altra parte Ora fatto questo qui Trasformiamo il nostro Birchwood In planks Quindi in legno lavorato E incominciamo A fare le pareti Quindi facciamo così Nel lato più corto Andiamo Un blocco più in alto E facciamo una puntina così Poi scendiamo giù E continuiamo a chiudere tutto quanto Perfetto Qua facciamo Uno, due, tre Uno, due, tre Anzi no Qui facciamo tutto completo Dai Così Qua continuiamo pure in quell'altro modo Quindi facciamo così Perfetto Continiamo È molto easy ragazzi Basta seguire il video E riuscite anche voi A replicarla Ok Ok Facciamo anche quest'altra parete Ottimo Perfetto Io non manco l'ultima parete Che deve avere una piccola Particolarità Quindi Facciamo Uno, due, tre Uno, due, tre Lasciamo tre al centro E alziamo la parete Ragazzi Non so perché sto video Mi sembra tipo Un video mezzo tutorial Come lo sto facendo Poi senza la videocamera Mi sembra proprio Back to 2013 O 2014 Fa un effetto retro assurdo Comunque abbiamo finito Adesso prendiamo le planks E facciamo il pavimento Naturalmente Perfetto Cioè molto easy Perché comunque dentro Ragazzi sarà piccolina così Ma fidatevi Che avrà tanto spazio Perché manderemo a sistemare Gli oggetti Adesso Con l'accetta Facciamo Due finestrelle qua Cioè Per ogni lato E volendo possiamo farla Anche qui Quindi prendiamo tipo Il centro E facciamo Uno e due E poi uno E due Naturalmente dobbiamo andare A mettere poi Il vetro Che ancora non abbiamo Lo metteremo poi alla fine Ora con la copra Possiamo fare tipo Una specie di piccola Terrazzina Davanti all'entrata Della casetta Quindi Facciamo più o meno Così E poi a livello col pavimento Possiamo fare una cosa Abbastanza tattica Dovrei avere degli stone brick Da qualche parte Eccoli qua Li prendiamo E facciamo appunto La vera e propria terrazzina Diciamo che Usiamo La cobblestone Come base Per la nostra casetta Perché sarà leggermente Rialzata Ok Perfetto Ok ragazzi Ho craftato adesso Anche delle scalette Che andiamo subito Ad utilizzare Qua Così Poi spacchiamo anche qui E le mettiamo Queste così Perfetto Abbiamo fatto già diciamo L'ingresso Nella nostra casettina Prendiamo adesso di nuovo Il legno lavorato scuro E anche quello chiaro E facciamo una specie di cornice Attorno all'ingresso In questo modo In questo modo Perfetto Poi prendiamo anche Il legno chiaro di berce E facciamo la stessa identica cosa Ottimo Ora torniamo nella nostra bellissima crafting E andiamo a craftare subito Una porta Sbam Va beh che ne abbiamo tre Ma scusate Piccoli dettagli E tac Abbiamo la porta Di ingresso Già che ci siamo Facciamo un pochettino Di fence E facciamo Tipo una specie Di terrazzina Tipo in questo modo Perfetto Guardate ragazzi Già sta iniziando A prendere pian piano Forma Adesso naturalmente Manca il Tetto Per il tetto Ragazzi Facciamo un tetto spiovente In questo modo Molto easy Con le slab E poi in certo punto Andiamo a utilizzare anche le scalette Per farlo leggermente più ripido Veramente easy In questo modo Basta utilizziamo appunto Già la casetta stessa Come appoggio Per il tetto E abbiamo fatto E ragazzi Il tetto più o meno E' fatto Adesso andiamo a collegare Queste fence Al tetto In modo da Dare il senso Che lo vanno a sorreggere Così almeno diciamo Che è più Realistico Come una vera casetta Perfetto E ragazzi Già la base La nostra casetta E' praticamente finita Adesso andiamo a mettere Tutti i vari dettagli Quali possiamo andare a mettere Tipo Delle decorazioni Naturalmente le finestre Quindi Vediamo subito Se abbiamo della sabbia Così facciamo una fornace E iniziamo a fare subito il vetro Perfetto Non abbiamo la sabbia Però possiamo prendere in atto Questa clay Fare già Un paio di fornaci E ne facciamo invece tre Mettiamo la clay qua dentro E il coal Che ci siamo portati da casa E la mettiamo subito Già a cucinare Mentre Penso che la sabbia Possiamo raccoglierla Da questo fiumiciatola Qua sotto Direttamente L'apriamo da qui Tanto non penso Che dia fastidio a qualcuno Perfetto ragazzi Sto cucinando adesso Anche la sabbia Per fare il vetro Dobbiamo fare Tipo Volevo mettere Come finestrelle Direttamente i pannelli di vetro Senza colorarli Senza colorarli o altro Molto easy così Quindi aspettiamo adesso Che il vetro Finisca di cucinare E ci siamo quasi Però non possiamo portarci avanti Abbiamo un'altra dirt Vediamo un pochettino No mi sa che l'abbiamo finita Ah no invece si Certo che ce l'abbiamo Ok Facciamo tipo così All'alto Poi andiamo anche di qua Facciamo in questo modo Possiamo fare anche Delle slab Di birch E anche delle scalette Quindi facciamo subito Le slab Ok Facciamo qualche scalettina Perfetto Con questi brick Andiamo a fare Dei pot adesso Cioè raga Io sto facendo Una casettina Carinissima Per un punto Che probabilmente Andremo ad abbandonare Per sempre Ma va bene così Allora Prendiamo adesso Le slab E le andiamo a mettere Tipo sopra le finestrelle Così Perfetto Mentre le scalette Le possiamo mettere sotto Tipo qua All'alto Andiamo a cliccare In questo modo Così dobbiamo fare Appunto l'angoletto Nice Poi andiamo a mettere Un pot qua Un altro pot qui Uno spazio di uno Pot e pot Prendiamo adesso Anche i dark oak Fence E facciamo in questo modo Easy Prendiamo adesso Anche l'oak normale Lo trasformiamo Così E facciamo Delle trap door E le mettiamo Attorno Alla dirt Che abbiamo messo prima Questo che altrimenti Dobbiamo andarlo a levare Perfetto Stessa identica cosa Da quest'altra parte Nice Ma io mi sono portato Anche Dei secchielli No Mi sa Perché sono stupido A meno che non sono qua dentro Dentro le altre shulker Quindi ormai Piazziamo tutte le shulker Allora Ok Non ci sono secchielli Qua dentro Neanche Perfetto Quindi andiamo a craftare Subito Un secchiello E sta di nuovo Per fare notte Mi sa Quindi subito Prendiamo dell'acqua Qua sotto Opla Rompiamo tipo qua Mettiamo Un secchiello D'acqua qui E stessa Identica cosa A quest'altra parte Dovevamo prendere L'acqua Facciamo questa cosa Velocissima E andiamo subito A dormire Così di nuovo Passa la notte Perché sapete Dopo che ho fatto Per 40 minuti Questa casetta Non voglio che Un clipper me la varra Ompere Cioè la mi arrabbiere tantissimo E ragazzi La casettina È praticamente Finita Ho fatto tutti gli altri piccoli dettagli Ho messo anche delle roselline Sia a destra che a sinistra Dell'entrata E dentro E così Cioè c'è abbastanza spazio Fidatevi Mettiamo subito comunque Delle torce E direi di metterle Proprio una qua Un'altra qui E poi tipo Una in quest'angolo Una in quest'altro angolo E già iniziamo sub A mettere tipo Il letto Qua Ragazzi La nostra Casettina Temporanea È finita Ci sta tantissimo Mi piace Molto carina Ci ho messo veramente Un sacco di tempo E quindi Direi che questo Video Della vanilla Purtroppo senza webcam Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo vi finisce qui Spero vi sia piaciuto Se si Fatemi un pollicione in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare in descrizione Perché lì sono tutti i miei social Come gli instagram e i telecom E il commento di me su entrambi E se ancora Non vi siete iscritti al canale In video di iscrivervi Volendo per iscrivervi al canale Basta che cliccate nell'altra Che sta qui c'è nello schermo E se già l'avete fatto Per cliccare adesso Vedete un attimo video Ragazzi Io vi saluto E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti